Vorreste imparare a dipingere o a disegnare anche se non l'avete fatto prima? Adesso potete farlo con me e come me che sono un'autodidatta. Infatti ho comprato molti libri sui quali ho studiato tanto e da sola e adesso sono felice di condividere con voi quanto appreso e mostrarvi come eseguo i miei dipinti o disegni. Spero che vi possa servire da incoraggiamento e ispirazione ed esservi utile nel vostro viaggio nel mondo dell'arte sia come artisti che come semplici appassionati d'arte. Adesso non avete scuse per non imparare a dipingere anche da grandi e anche se non avete frequentato scuole di indirizzo artistico. Se ci sono riuscita io infatti potete farlo anche voi magari guardando i miei tutorials e cosa faccio io. Quindi iscrivetevi al mio canale YouTube e dipingeremo insieme. Seguitevi, mettete tanti like e lasciate tanti commenti. Ci vediamo dentro. Ciao ciao!